come abbiamo anticipato all'inizio si parla veramente di prodotto industriale la presentazione di questi prodotti è fica allora era 2005 e dal momento che loro erano studenti di design attenzione i fondatori di Juul sono due studenti di design e hanno detto ma sarebbe bello creare delle sigarette che ti danno la bellezza della sigaretta comunque quella necessità quindi la nicotina ma togliendo la parte cancerogena e lo fanno diventare il loro progetto di tesi fu un caso studio molto discusso perché associava questo prodotto qui ai giovani era una roba figa, super colorata c'era proprio un immaginario completamente nuovo solo il 5% lo riteneva così come loro comunicavano un'alternativa alla sigaretta il 95% cioè lo comprava perché lo riteneva un'alternativa alla sigaretta il 95% erano nuovi fumatori questo è un vecchio sempre che qualcuno ha richiesto esplicitamente che si tornasse un po' gli albori un b che riusciva a clippare ah e quando c'era il vino andava bene quando non c'è più è sempre così si vuole sempre quello che non si ha esatto e da qui il tema della puntata no, anche esatto avete notato che siamo tutte le cose in manette bianche sembriamo degli start-upari che devono vendere qualcosa anche Mitch ha una manetta bianca questa cosa è una vergogna però vabbè, divertente va bene, allora da dove partiamo con questo episodio? avete già visto la cover dal titolo di cosa parliamo tuttavia vi voglio raccontare come è nata questa roba qualche giorno fa settimana fa non so bene l'avete visto tutti è uscito questo video di Mancini che promuove anzi, non promuove l'uso delle droghe ok? cioè dice ragazzi non drogatevi promuove l'attenzione dalle droghe l'attenzione dalle droghe un video abbastanza bislacco che è girato online che non ha totalmente nessun senso dall'inizio alla fine però c'ha ragione dai c'ha ragione c'ha ragione non lo metto in dubbio quanta ragione c'ha no, è il come la cosa i ragazzi che dicono cazzo Mancini hanno detto che dobbiamo drogarci faremo un video e fanno un video orizzontale facciamolo divenire virale non drogate e poi lui dice fa la girare come si diceva nel 96 per gli spinelli per gli spinelli e vabbè quindi questo qua i ragazzi lo fanno girare sì ah gag pazzesca molto bene l'inadeguatezza di questo spot ci ha fatto fare una riflessione cioè quanto è difficile in effetti vendere o fare spot campagne di sensibilizzazione per cose che fanno male tra virgolette cioè c'è un'idea di difficoltà nel fare queste cose tuttavia proprio a tema cioè proprio vicino a questo tema qui un'industria che ha trovato la chiave di volta per fregare tutti e vendere una cosa una delle industrie che ha trovato la chiave di volta per vendere una cosa che fa male pur continuando a farlo nonostante l'avessero fermata è quella del fumo quindi le lobby delle sigarette del fumo del fumare eccetera che appunto svariati anni fa ebbero un blocco in Europa quantomeno non so anche negli Stati Uniti se è così di promuovere appunto il fumo perché è una pratica sbagliata perché fa male eccetera eccetera illegalmente loro non possono fare pubblicità non possono fare pubblicità cioè da un punto di vista di amante del branding della comunicazione advertising tiri sfortunatamente perché se andate a vedere vecchi spot vecchi billboard poster della Malboro per esempio ci sono cose tremendamente iconiche è un universo parallelo non si può non si può però dico in un universo parallelo ti immagini come sarebbe andato come sarebbe continuato tant'è che la Formula 1 c'aveva cioè la Ferrari che aveva Malboro anche là è stata scomparsa sarebbe stato strano perché adesso avremmo avuto visto che un'industria particolarmente ricca avremmo avuto tipo influencer che fumano cioè un po' bizzarro esatto allora esatto c'è una regola che le aziende che producono tabacco e sigarette eccetera non possono pubblicizzare non possono spendere soldi in pubblicità i propri prodotti perché sono prodotti che fanno male così come sta succedendo con l'alcol anche con l'alcol non si può basta perché è una cosa che fa male quindi poi muori e pesi sullo Stato e quindi non si può più fare questa roba non so da che anno spero che ci segua qualche avvocato quello la dico si è la legge questa è la legge se puoi commenta con la legge e quindi cosa si sono inventato hanno detto se noi facciamo un prodotto che è collaterale che quindi si porta per forza dietro il fumare noi possiamo pubblicizzarlo quindi lo scaldatabacco l'invenzione di questo prodotto che è lo scaldatabacco possono io partirei appunto dalla storia di queste allora facciamo un grosso un grosso cappello sigarette elettroniche per quanto poi alcune non si chiamano sigarette elettroniche alcune sono scaldatabacco che poi è diverso e questa cosa qua deve essere compresa un quanto meno però non questo canale questo non è il canale di svapo svapo shop come sigaretta che non è la sigaretta tradizionale perfetto allora perché questo perché la storia in realtà delle sigarette elettroniche è particolarmente interessante queste sigarette elettroniche che vediamo adesso in giro che ci sono tantissime le fumano sono diventato un vero prodotto tech un vero prodotto industriale cioè c'è veramente un'attenzione importante diciamo è proprio tutto il gioco si combatte sul prodotto industriale cioè proprio sull'oggetto che poi è il motivo per cui ne parliamo è design totale questo design totale quindi io partirei con la storia con la storia dove è nato come cosa è successo dimmi di più allora parte tutto con questo prodotto qui il prodotto americano ve la sapete la storia di giugolo allora era 2005 due studenti di stampo ci puoi fare un contesto storico del 2005 non lo so cosa c'è 2005 passava in radio shiver Maradona era vivo non c'era non c'era il covid e Maradona era ancora vivo l'Italia non aveva ancora vinto i mondiali per dirvi questa cosa moltissimo tempo vent'anni fa quasi l'anno dopo l'Italia avrebbe vinto i mondiali con il gol di Fabio Grosso immagini vediamo cosa ci propone dai c'era come si chiama lei no Agravini ma comunque questo era il mondo questo era il mondo questo era il mondo cosa succede due studenti di Stanford si sono incontrati in università in quel momento che era un momento sigarette così come pausa sigarette sono incontrati tante persone perfetto ok anche lui tra l'altro si dovevano laureare e quindi parlando del più del meno si rendono conto che c'è un'esigenza e dal momento che loro erano studenti di design attenzione i fondatori di Juul sono due studenti di design hanno detto ma sarebbe bello creare delle sigarette che ti danno la bellezza della sigaretta comunque quella necessità quindi la nicotina ma togliendo la parte cancerogena ok e lo fanno diventare il loro progetto di tesi cosa non ammazzarti queste sigarette quindi nasce in realtà da una risoluzione di un problema come tutti i progetti di design eliminare il cancro anche sì certo quindi niente nasce Juul la aprono l'anno successivo e quindi nel 2000 no nel 2007 fondano la società e nel 2015 la vendono e fondano Pax ok a Sanford se la passavano bene le prossime saranno microdosi di lsd stanno già lavorando perché questo è già Pax aspetta bellissimo tra l'altro è uno scalda scalda spezie non mi ricordo com'è venduto però è scalda fiori no 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 però vaporizzatore di erbe però specializzato nella cannabis è già all'epoca l'unica erba che ti fumi è quella è la cannabis scalda spezie ma che modo è come i tritini sono dei trinciatabacco mamma mamma non mi faccio le spezie non mi faccio quella spezia perché poi le altre spezie con Pax creano Juul quindi Juul è sotto Pax ok incredibile quindi questi contenitori e il loro obiettivo era arrivare però a completare la loro missione cioè vendere una sigaretta che non facesse male fondamentalmente quindi era veramente una missione se vogliamo nobile comunque capivano l'importanza cioè la bellezza del gesto della gestualità e della della cosa sociale che ha la sigaretta eliminando però i problemi letali succede che ovviamente in America un prodotto del genere deve essere approvato dall'FCA e l'FCA dice guarda FDA in realtà non è vero che è meno dannoso delle sigarette quindi io questa cosa non te la provo e loro si trovano in difficoltà e sono questa cosa poi vabbè complotto mettiamolo del complotto in questa storia mettiamoci certo 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 quindi loro cosa fanno sono costretti a cambiare target non possono più venderla ai fumatori accaniti in alto al loro target di riferimento che erano quelli che fumavano vendendolo come prodotto che li aiutasse a smettere di fumare quindi cambiano target cambiano target e vanno dai millennials vanno dai millennials e nello specifico vanno dagli occasionali smokers quelli che fumano i fumatori occasionali così così quelli che ti rompono la sigaretta e fanno una sigaretta e fanno un casino fanno un casino perché Jules diventa un prodotto di successo clamoroso adesso vi rimetto le immagini di Jules perché vabbè qua è il sito attuale perché diventa un prodotto così di successo per tante situazioni dal punto di vista di tecnologia e marketing il prodotto è innovativo oggettivamente anche quando arrivo in Italia mi ricordo era pazzesco sembrava un iPhone era qualcosa molto tech lontano da tutto quello che si era visto era essenziale leggero lo mettevi in tasca non era associabile a nulla proprio relativo al fumo diciamo che esatto questo qua è un prodotto questo prodotto nello specifico è una sigaretta elettronica e fino a quel momento le sigarette elettroniche erano una merda cioè erano quelle cose che si fuma Fedez i barmi erano i treni i treni dell'epoca quindi quelli lì con la fumata bianca questo qua effettivamente è un prodotto completamente rivoluzionario tanto è che anche io quando lo vidi non sembrava una sigaretta elettronica e ti chiedevi che cazzo è anche perché la sigaretta elettronica dovevi caricarlo col boccione questi qua avevano le capsule già caricate vedevi cosa stavi fumando aveva x gusti non un milione tipo popcorn e il popcorn egiziano e quindi era diciamo effettivamente progettato per la semplicità e per entrare per penetrare un mercato nuovo infatti semplicità iconica fu questa campagna vaporized proprio in termini proprio di branding importante in termini di branding fu un caso studio molto molto discusso perché associava questo prodotto qui ai giovani era una roba figa super colorata c'era proprio un immaginario completamente nuovo e questo qua ha aiutato effettivamente ad attecchire su quel target di riferimento e tant'è che il prodotto si è diffuso a macchia d'olio ed è entrato addirittura diventato un verbo si sa che quando una cosa diventa un verbo jeweling è diventato ah si in America è diventato un che poi adesso fanno le le jule sballanti sballanti e loro sono stati anche molto molto bravi proprio in termini di comunicazione in generale e si permettevano anche di fare una cosa che forse adesso sarebbe un po' audace audace guarda questa qua è una newsletter della festa della mamma aiuta tua madre a smettere o fargli un regalo diverso e c'era questa roba qui beh comunque è un approccio interessante sicuramente quando sei il first mover puoi fare quello che cazzo vuoi e poi ti fermano dopo al massimo ti copiano quindi anche perché se non mi sbaglio però loro l'hanno venduta a Philip Morris no no dopo ci torniamo su non spoilerare no 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 le quote non è Philip Morris Philip Morris a Icos Atria 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 che è una delle big tre del mondo dell'industria del tabacco ok loro tra l'altro sono stati i primi proprio perché erano i first mover anche ad attaccare gli influencer ovviamente visto che questa cosa qui non era ancora regolamentata adesso iniziamo ad averla regolamentata abbiamo dei limiti potevano farlo potevano farlo e questo qua ha portato delle cause legali molto importanti tant'è che in queste cause legali c'era anche il fatto che avevano comprato degli spazi pubblicitari in Nickelodeon in altri grossi che c'era oltre a Nickelodeon c'era come si chiama Cartoon Network insomma veramente bimbi svabate fatta sporca proprio perché per quanto loro la volevano vendere come questa roba qui non fa male però c'è nicotina quindi tu stai educando comunque stai creando stai creando una dipendenza molto molto grave quindi cosa succede per quanto faccia meno male delle sigarette normali dicono però comunque succede che il 32% succede che diventa un problema importantissimo a livello mediatico vi do dei dati il 5% solo il 5% lo riteneva così come loro comunicavano un'alternativa alla sigaretta il 95% cioè lo comprava perché lo riteneva una terribile sigaretta il 95% erano nuovi fumatori quindi effettivamente hanno creato un mercato nuovo effettivamente avevano aggredito il target giusto perché loro dicevano lo fumatore occasionale e quindi poi diventavi fumatore stabile di questa nuova cosa perché era un trend era un trend col seno di poi insomma mi sento generalizzo si può dire che i Gen Z oggi partono quantomeno da questo mondo qua forse non passano nemmeno dall'altebacca normale dalla sigaretta normale quindi effettivamente ha funzionato totalmente bravi si vede che a Stanford insegnano bene il design e un quarto degli studenti delle superiori fumavano Joule e un decimo del middle school che penso sia le medie fumavano quindi sotto l'età perché sotto l'età un decimo fumava quindi cosa succede succede che loro sono obbligati a cambiare strategia o a trovare delle scuse e quindi cambiano strategia comunicativa con questa campagna la campagna dello switch quindi cambiano di nuovo target seppure era troppo tardi e quindi la campagna diventa ritorna su chi effettivamente fumava adulti e anche adesso quando vai sul sito trovi in modo estremamente chiaro guarda design pensato per i fumatori adulti quindi adesso la loro comunicazione è verticale per quello cosa succede succede che Joule chiaramente che inizia a perdere mercato e passano dal 75% del mercato delle sigarette elettroniche al 25% sono obbligati a cancellare quelle che sono le loro campagne più virtuose più forti tutto il discorso dei pods a gusto fruttato è stato giudicato troppo amichevole troppo troppo coinvolgente e di conseguenza hanno dovuto cambiare comunicazione anche su quello vabbè hanno fatto le pulci diciamo e come è a livello di prodotto allora a livello di prodotto è un capolavoro purtroppo è un capolavoro è essenziale perché da quando è uscita è uscita nel 2015 adesso sono passati veramente dieci anni non è mai cambiata quando un prodotto non cambia per dieci anni vuol dire che tu non c'è visto lungo c'è visto di più il prodotto è perfetto essenziale è un appena USB fa tutto quello che deve anche materiali è alluminio cioè è incredibile non è neanche decorativo quindi non ha neanche bisogno di una rivisitazione estetica nel tempo è questo è super iconica praticamente dicevamo che i produttori di sigarette poi in realtà sono tre più grossi Philip Morris che ha Icos e Viv che vedremo sono due prodotti concorrenti a Joule Atria che ha Joule e British American Tobacco che ha Glow ok adesso vedremo alcuni di questi prodotti perché come abbiamo anticipato all'inizio si parla veramente di prodotto industriale la presentazione di questi prodotti è fica cioè per quanto va detto è fica per quanto facciano male non dovete non lo fate però appunto è interessante anche il fatto che questi qui quelli di Joule sono nati diciamo fuori dall'industria del tabacco e quindi hanno scelto la sigaretta elettronica direttamente mentre invece gli altri hanno dovuto combattere questo nuovo fenomeno fenomeno e infatti molti hanno lanciato poi lo scalda tabacco che è un'altra diciamo tecnologia che però esce comunque dai riflettori del ban delle pubblicità delle pubblicità certo prego dottore sì allora qua riusciremo a vedere in realtà non solo le varie correnti estetiche in termini di prodotto industriale ma anche proprio il brand perché effettivamente questa Viv è un po' più amichevole molto molto colorata ha il prodotto tutto stondato è secondo me un bel prodotto proprio in termini di prodotto industriale veramente fatto fatto molto 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 bene e niente molto molto fico sì allora qua posso dire una cosa che mi piace proprio in termini di brand generici è che se vediamo bene il logo di Viv questa è praticamente lo svapo diciamo così di Icos ok quindi in termini proprio di logo ok banalmente tutta tutta la comunicazione che Philip Morris sta facendo su Icos It's Viv in questo caso tiene tutta la stessa linea estetica proprio in termini di graphic design i pacchi delle sigarette stesse e anche mi viene a dire anche del prodotto se tu metti a fianco questa Viv alla nuova alla nuova Icos che magari adesso vedremo in effetti c'è una coerenza il pack totalmente iPhone totalmente veramente si può dire che Philip Morris sicuramente ha totalmente più sospirazione da come iPhone è partita esiste e come dicevi prima tu è un prodotto tech totale ed è quella fazione lì si può dire che Philip Morris è la Apple delle sigarette elettroniche proprio come comunica si 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 passiamo a un competitor passiamo a Glow molto bella questa che invece perché abbiamo visto un caso bello Glow secondo me è il più brutto in termini di prodotto industriale ragazzi è agghiacciante è veramente brutto Glow invece è uno scalda tabacco quindi fa devi inserirci dentro delle sigarette mozzate quindi comunque maneggi del tabacco però ce la infizzi dentro e quella te la scalda tipo un fornelletto come l'Aikos come l'Aikos però questa è di Philip Morris American Tobacco British American Tobacco ok ok vai a breccia vabbè comunque qua è tutto brutto è tutto brutto sono brutte le forme sono brutte i dettagli le finiture è proprio tutto ma dai sei molto cattivo a me non dispiace questa finitura radiale così si utilizzava negli Asus degli anni esatto è vero è sicuramente molto meno raffinata dell'Aikos che però questo qua parte da un concetto diverso cioè mentre l'Aikos parte dal creo la struttura più piccola possibile più garbata possibile poi ci attacca una batteria questo qua ha già la batteria e il coso non è questione di form factor non è questione di cosa fanno fanno cose diverse io non le capisco non mi interessa è il come come hanno curato le superfici le forme le finiture tutto è tutto è datato le forme non sono d'accordo le finiture sì i colori sono terribili le finiture pure perché ci hanno questi radiali spazzolati terrifiche qua ti posso fare veramente un atteso universitario sul perché queste due forme questo cilindro questo questo slope questo questa pillola collegata però dai ricordano un po' i accendini dell'epoca i Dupont staranno rivoltando nella tomba mi dispiace scusa dico solo l'ultima cosa guarda allora qua loro hanno avevano l'esigenza di creare un'apertura e loro hanno utilizzato questa finitura radiale cromata come grip dopo vedremo Icos come ha gestito i grip e lo fa in una maniera molto più moderna molto più elegante ok sono d'accordo questo senza ombra di dubbio esatto allora sono d'accordo su tutto forse qui una riflessione che ma non so forse Glow è uscita leggermente dopo Icos non ne ho idea però forse il loro pensiero qui per quanto io a me non faccio impazzire il fatto che tu abbia questa mattonella in mano che devi tenere per fumare ok questa roba qua però te la ficchi in tasca cioè nel senso è una la forma di una batteria cioè non so come dire è portafogli una robetta piatta che tu ti ficchi nella tasca di dietro banalmente il fatto è che uno deve comunque visto che a questo punto stiamo parlando di prodotto industriale di Icos versus Glow perché quelle sono le due tecnologie uguali quindi tecnologicamente sono lo stesso prodotto uno è a un prezzo molto più basso Glow se non mi sbaglio esce a tipo la metà della metà di come si chiama di Icos quindi chiaramente ha un target diverso che probabilmente apprezza quella spazzolatura particolare però avranno altri prodotti avranno una famiglia di prodotti secondo me adesso io non lo so Glow ha praticamente lo rimpicciolisce sempre adesso già questo qua è il più piccolo però il primo era veramente brutto un mazzappone grosso però io ti posso dire brutto ma chiaramente sarei molto più in target dell'Icos che della Glow quindi è chiaramente un target diverso da quello che apprezzo io però lo capisco cioè diciamo progettualmente capisco il prodotto si può dire anche che fa abbastanza diciamo che non è molto curata proprio da un punto di vista estetico perché anche il tito è assolutamente ghiacciante sembra un euro cioè è quella stile lì totalmente è proprio un euro in verità è totalmente privo di qualsiasi di qualsiasi genere di di cura cioè è veramente affraffazzonato e dozzinale totale però mi puoi mi puoi mettere i brand invece di American Tobacco vicino è British American Tobacco mi confondo sempre quelli c'hanno tutti i tipi novi si le sigarete che sigarete vende ah guarda avevo Winston e American Tobacco avevo trovato una lista di delle delle sottocategorie vabbè nel frattempo io vi faccio vedere un altro un altro player nel frattempo che ragazzi cercano allora questo qua è Kiwi Kiwi comunque aspetta perché Kifu Maglo cioè la cosa è le Rotmans le John Player Special le Lucky Strike è quella più famosa di British American Tobacco cioè è proprio sono dai però secondo me è un mercato di riferimento diverso perché io prima ho visto i fatturati e loro fatturano quanto gli altri fatturano 75 miliardi i tre colossi sono tutti qui no no certo certo vabbè andiamo allora andiamo avanti io ripeto io non so niente mi avete mi avete consigliato questo brand si chiama Kiwi italiano italiano si confermiamo in realtà è particolare è particolare questo video presentazione siccome è fatto anche bene il prodotto è molto piacevole mi ricorda però un prodotto forse era la loro intenzione un po' più cosmetico un po' ah si come approccio che figa beauty bravo si tipo una crema ok si allora esatto questo qui appunto per l'italiano è un altro tipo di sigaretta questo torniamo sulla sigaretta elettorale quindi svapo originale ci metti il liquidino dentro in effetti questo qua è molto bello è molto interessante se vai sulla pagina loro hanno praticamente cosa hanno fatto tendenzialmente hanno preso un prodotto white label ok che si trova questa è la storia che abbiamo decrittato noi e l'hanno customizzato in alcuni dettagli molto molto esatto nelle parti principali esatto che l'hanno effettivamente molto interessante questa versione qua io non l'avevo ancora vista questa qua è la nuova la nuovissima la nuovissima molto bella sembra una trapenna adesso sembra un cosa molto bello sì 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 cacchio è veramente figa questa non l'avevo ancora vista ferma allora abbiamo ci siamo appena resi conto in realtà che la kiwi che è quella figa quella go esatto in realtà è usaggetta non è normale è la cosa peggiore che l'umanità abbia concepito cioè un prodotto con una batteria che tu finisci e butti ovviamente non butterai mai nel deposito batteria dove vanno buttate le batterie e quindi male non lo fate infatti con la categoria l'abbiamo deciso proprio di metterla in puntata perché è proprio sbagliata la sua esistenza quindi bella oh bella però non ha sparo senso di esistere non fumatela non comprate la ma comunque nonostante ciò loro hanno fatto un bel lavoro veramente di design anche sui modelli precedenti dove appunto prendendo questo white label andavano a sostituire cazzatine tipo puoi togliere il tappuccio e mettere un filtro reale puoi avere poi soprattutto hanno creato un doc apposta questo doc qui che vediamo qua adesso ispirato dall'Aikos non c'è non esiste nessun competitor che abbia poi sviluppato questo secondo me loro sono stati geniali un po' alla Joule onestamente nel prendere il trend di Aikos che ovviamente ha una trazione di brand infinita perché hanno soldi da buttare proprio incendiare da fumare soldi scaldare scaldare oggi e hanno preso quel prodotto e hanno detto ok facciamo identico prendiamo la cosa più simile possibile però effettivamente via dal dal tabacco quindi hanno creato il tappino simile a quello della sigaretta quindi di cotone hanno messo il liquido per ricaricarlo e quindi hanno creato un prodotto nuovo che però effettivamente era molto vicino cioè sfruttava un po' la scia di Aikos hanno messo sto ricaricatore a fianco sto power bank alla fine e secondo me hanno guadagnato diciamo gente hanno guadagnato clienti esatto utenti clienti per poi sviluppare questo qui nuovo che è totalmente un altro prodotto molto più l'iconizza abbastanza li mette su un piano che dici ok questo è il prodotto di kiwi l'avessero fatto prima probabilmente sarebbe rimasta nel sottobosco dei prodotti esatto bello bravi andiamo avanti passiamo ad Aikos Giuliano ha detto bene Aikos è un po' la Apple delle sigarette elettroniche perché sono bravi purtroppo ma ci becchiamo la denuncia di Apple per essere associati ma guarda non solo dal punto di vista di prodotto industriale ma proprio nella cura del brand cioè gli store Aikos sono sì anche di user experience Libra la Dyson un po' di anni fa così un'altra denuncia vuoi mettere pure brand più cattivi è Disney esatto la Disney no ma proprio tutti i visual tutti i render che hanno sono bravissimi sono bravissimi guardate qua adesso dopo andremo sul sito però vedi qua come hanno gestito i grip loro hanno fatto questa piccola crisi questa piccola increspatura molto molto bella assolutamente questo qua questo qua stiamo vedendo adesso la Iluma io ci sono passato attraverso prima di io fumo va bene lo dico mamma ma non si dice no però ci sono passato dalla Iluma ma non dovete farlo non dovete farlo avendo fatto anche il passaggio prima dall'Aikos normale quindi sono abbastanza fidelizzato Aikos la verità ha smesso ha smesso anche perché puzzava come la morte esatto ragazzi posso fare un piccolo appello allora se andate a delle feste se andate a delle feste non fumate dove c'è gente c'era gente tipo la discoteca non potete fumare l'Aikos altrimenti vi arriva un sucker punch laterale è vero fa schiva sembra che state cacando non puoi non puoi ma accendetemi una sigaretta a quel punto perché almeno là lo sai non si può l'Aikos invece puoi fumarla cioè nel metro mi fumo un'Aikos ma puoi non puoi dicevo in effetti la Iluma aveva l'ultimo modello dell'Aikos ha avuto delle accortezze estremamente interessanti sia dal punto di vista di materiali perché c'era questo doppio materiale io non ne capisco granché però di materiali insomma però c'era questo qui molto grippato quasi organico sul case e poi la cosa che mi piaceva un sacco se ci torni su guarda un secondo che ci va questa versione è visuale dal top subito sotto subito sotto un po' più sotto 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 ancora qua questo top view vedete questa ghiera che c'è su che sembra il logo di Montblanc altro brand che ci denuncia ragazzi oltre alla forma della sigaretta che comunque effettivamente molto fine materiali pazzeschi aveva questo compito qui loro avevano messo questa ghiera questo mio parere magari non è vero siccome si fumano delle sigarette apposta per questa qui che si chiamano Terea vabbè in sostanza rispetto a quelle vecchie avevano entrambi i lati bianchi quindi tu non vedevi il tabacco effettivamente che stavi andando a scaldare quindi per capire effettivamente se la Terea l'avevi fumato o meno perché poi chi fuma Icos sa benissimo che quelle fumate le mettono sempre nel pacchetto per non buttarle in giro questa dentellatura creava questo pattern sulla sigaretta che ti faceva rendere conto che in effetti tu la sigaretta diciamo proprio Icos è sicuramente la più attenta alla user experience totale poi c'è la vibrazione esatto della fumata ma anche c'è la vibrazione dopo tipo tot tiri non mi ricordo questo è una cosa che Kiwi ha portato sulla sigaretta prima la vibrazione dopo 20 tiri che ti devo dire hai fumato una sigaretta perché con l'isbapo potresti fumare infinito Kiwi ha fatto la cosa più intelligente da fare quando c'è un nuovo prodotto copia il migliore esatto cioè copia il migliore sulla piazza e aggiungici quel qualcosa in più che allora era la tecnologia poi questa roba qui a livello di tatto questa roba qui a livello di prodotto industriale come hanno gestito loro le forme ragazzi è una roba incredibile allora questo case qui è in sottosquadro perché è così tonno così bello perché è in sottosquadro perché di solito si fa un taglio a metà è complesso da produrre l'hanno fatto poi c'era questa mascherina davanti che è magnetica anche la sigarettina lì è magnetica poi aveva anche una gestualità tutta nuova tu premevi e usciva e la sfilavi da dentro aveva tante cose che effettivamente no il fatto il fidgeting quando quando puoi giocarci apri chiudi apri chiudi tante cose che fanno parte della gestualità di un prodotto che loro sono dei fenomeni hanno fatto tutto cioè proprio può essere davvero una tesi di prodotto di design in generale guarda il doc che bello guarda il posa stick c'è ciò che mi sembra un'espresso va beh è ancora uno hai fatto abbiamo fatto un benchmark di estetica no il brand bravo tutti i prodotti che ci denunceranno complimenti no no è molto bello soprattutto in realtà dico una cosa che può sembrare a favore del fumo ok però in realtà è un mondo interessante perché ha tante gestualità puoi dirlo lontano dai brand tanti rituali e tanti rituali e questo effettivamente crea dei linguaggi e siccome il design è il linguaggio inventarsi dei linguaggi nuovi come ha fatto Icos in questo caso quindi dei rituali nuovi hai ragione era proprio così infatti effettivamente fa cultura in qualche modo che in termini assoluti di design è di esperire quei prodotti che è influenza la semiotica è vero è vero è bellissimo infatti allora per quanto sia magari difficile perché comunque poi le agenzie le agenzie chi lavora a questi progetti comunque magari ci finisce uno che odia il fumo a lavorarci certo sono comunque progetti interessantissimi cioè proprio fighissimi che qualcuno dovrà puffare e la cosa buona è quando lo fanno al meglio quando lo fanno bene allora io ragazzi qua ho gli ultimi due brand e poi abbiamo finito allora il primo è questo non so se lo conoscete non so se è particolarmente famoso però sono figli ok loro si chiamano Real X ah ok a me non piacciono anche questo molto simile a chi vedo questi teli sai il logo invece ti dirò loro loro devi vedere come sono dal vivo non sono così belli non hanno belle finiture no allora io il video l'ho messo perché è molto bello come viene presentato mi ricordava tantissimo la presentazione di un telefono un telefono fa vedere il processore fa vedere un computer le altre cose e secondo me il prodotto di per sé è fatto fatto bene cioè è particolare è molto bella la presentazione però è un po' una scienze nata scienze nata si è fatto a scienze guarda pure l'abito reddose vedi mi spaglia classico classico dei prodotti tipici di scienze in ultimo mi faccio vedere questo che è un prodotto che abbiamo abbiamo citato all'inizio adesso non so bene la storia come hanno fatto no perché abbiamo detto che questi fondatori hanno creato i fondatori di giul hanno creato max anche questo hanno fondato bloom bloom all'inizio poi l'hanno venduta adesso sono quelli che l'hanno comprate quindi aspetta fammi un attimo una ricostruzione è giul primo prodotto i due fondatori fondano bloom ok fondano bloom questa azienda qui la vendono e fondano pax incentrandosi però giul da pax con l'azienda pax fondano giul che è poi il prodotto che hanno messo in commercio praticamente ok ma questi sono più moderni evidentemente sto perdendo le date questo plum non so di stile adesso e hanno fatto una roba li ho messi semplicemente perché si loro pure fanno lo scaldatabacco hanno fatto però una in termini proprio di vendita del prodotto sono quelli più figli cioè guarda qua che lavorano hanno fatto c'è il legge non cito cosa hanno fatto hanno fatto una roba che hanno fatto no non faccio altre associazioni ah ok vabbè ormai ormai vogliamo perdere un'altra no hanno fatto hanno fatto veramente sicuramente tutti in 3D sono veramente sicuramente loro sono il prodotto più figo la rappresentazione che hanno trovato bello già adesso c'è delle cose bellissime questa cosa sembra sempre estremamente figo ma poi c'è lo schermo sopra c'è uno schermino che cosa è quella roba si allora l'attico giorno non lo so non ci interessa chi se ne frega però la presentazione è proprio tutto in 3D è una figata 15 anni scalda tabacco sigarette elettronica e scalda erba scalda sogni e scalda specchio avevano venduto qua e là sono degli scaldatori bello bellissimo 19 euro ottimo prodotto industriale no questa non lo facciamo vederla non comprate non comprate va bene perfetto a posto? si a posto mi è piaciuto fare questo escuso di brand non vergogniamoci di parlare di cose che sono brutte però che comunque fanno parte del quotidiano e sono effettivamente un sacco design oriented si parla di gestualità di prodotto industriale di un sacco di figli mi è piaciuto molto perché non ci consigliate delle altre categorie protette ovviamente ripetiamo questa puntata non è sponsorizzata anche perché altrimenti avremmo una Bentley probabilmente qui fuori con una adesso non è sponsorizzata perfetto si va bene e niente perfetto ragazzi grazie mille non fumate non fumate possibilmente non drogatevi nemmeno se fumetto mancina all'inizio e fate un video fate un video dove dite che non lo fate fate girare i video fate girare questo video se col vostro amico che fuma plume plume non importa qualsiasi altro nome a cinque lettere che trovate noi ringraziamo come una storia tutti quanti i nostri patron potete abbonarvi al nostro patron qua in descrizione per entrare nel discord dove parliamo di cose magistrali sul design eccetera eccetera e niente ci vediamo lunedì prossimo voi ad agosto facciamo cose nuove ve lo diciamo la prossima volta perché ciao belli ciao 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 ciao